Un saluto a tutti, oggi è il 28 di aprile e proprio in occasione della giornata mondiale della sicurezza ci troviamo in ESEB, la migliore scuola edile che da anni prepara i giovani alla professione di operatore edile. Naturalmente la scuola oltre alla didattica e alla pratica presta molta attenzione alla sicurezza, quindi oggi andremo a vedere dei set dove i ragazzi stanno simulando delle lavorazioni. Come si dice qui a Brescia, NOM, seguitemi! Adesso raggiungiamo la prima postazione dove c'è una squadra di ragazzi che sta effettuando una lavorazione. Incontro Matteo. Ciao Matteo, innanzitutto cosa state facendo qua? Stiamo montando un ponteggio. Ricordiamo a cosa serve un ponteggio? Per lavorazioni in quota, ristrutturazioni di case, per salire sui tetti. Perfetto, vedo che è fatto da molti pezzi diversi tra di loro. Voi come avete imparato ad assemblarlo? Abbiamo imparato facendo dei corsi a scuola, guardando dei libretti simili che ci spiegano il montaggio di vari ponteggi. Ho notato che i ragazzi sono legati, è una questione di sicurezza? Sì, per non rischiare di cadere giù dal ponteggio e farsi male. Ok, e come si sale? Ci si arrampica? No, si usano delle scale e delle botole e che quando si arriva alla fine bisogna chiudere la botta per non rischiare di cadere giù. Ho visto che loro camminano su dei pezzi appositi, come si chiamano? Pedane. Devono essere sempre libre per non rischiare di inciamparsi. E ho notato peraltro che a terra ci sono delle assi, perché le avete messe? Queste assi servono per non far sprofondare il ponteggio magari nei terreni e rischiare di che si ribalti. Ok, invece domanda, cosa sta facendo quel ragazzo più in alto? Sta montando un ancoraggio che serve per non far ribaltare il ponteggio. E adesso la vera domanda, intanto che loro stanno lavorando, tu cosa fai? Li guardi? No, faccio il proposto, è quello che dirige il cantiere e insegna i ragazzi a montare il ponteggio e farli usare le norme di sicurezza. Quindi signor preposto, grazie mille del tuo tempo, grazie a voi, buon lavoro, noi andiamo alla prossima postazione. Alla postazione numero 2 trovo invece Andrea. Ciao Andrea! Ciao! Cosa state facendo qua? Noi qua stiamo facendo la lavorazione e la movimentazione della terra. La prima domanda che ti faccio, vedo che c'è un ragazzo là, cosa sta facendo? Quello ragazzo lì sta facendo un parapetto per non inciampare e cadere dentro lo scavo. E come mai è così lontano? È così lontano perché deve stare attento alle macchine che circolano. Anche i gilet fluorescenti che avete hanno una funzione? Esatto, i gilet che abbiamo su sono per farci riconoscere dalle macchine. Ok, mentre invece chi lavora sulle macchine a cosa deve prestare attenzione? Deve stare soprattutto attenzione agli altri mezzi, ma anche a quello che trova sotto di lui. Cioè, quindi scavando cosa potrebbe trovare? Sotto di lui potrebbe trovare vari cavi di corrente, tubi di gas. Scusa la mia ignoranza, io ero rimasto che la corrente è quella che passa in alto, col tralicio. Esatto, ci sono quelle che passano in alto, quelle sottoterra. Infatti questo lavoro richiede molta attenzione. Ho capito, ho un'altra curiosità però. Che cos'è quel pezzo di ferro molto grande? Il pezzo di ferro lì serve quando lo scavo è completo e bisogna lavorare all'interno per non far franare la terra. Come si chiama? Blindo. Blindo. Allora, anche qui mi pare di capire tutto in sicurezza. Esatto. Vi lascio proseguire, grazie mille. Andiamo avanti. Mi dirigo ad una nuova postazione dove stavolta trovo Fabio. Ciao Fabio. Cosa è che state facendo qua? Qua stiamo facendo una simulazione di lavori sul tetto. Però gli altri ragazzi poco fa mi hanno detto che quando si lavora sul tetto, quindi in altezza, serve il ponteggio. Sì certo, hanno ragione. Ma in alcuni casi, come cambiare una tegola o pulire la grondaia, si può fare a meno del ponteggio e usare semplicemente un'imbragatura dei moschettoni. Facciamo un esempio? Certo. Come puoi vedere Federico è attaccato a una corda d'acciaio che insieme a quei ganci formano la linea vita. E adesso si sta dirigendo a cambiare una tegola. Mentre Samuele sta uscendo dall'abbaino per andare a pulire una grondaia. Molto bene, grazie. Ho notato che qui c'è un tavolo dove ho visto, non so, sono corde, ganci, ma tutti uguali. Cioè uno vale l'altro? No, no, ognuno di questi ha una funzione diversa per ogni lavoro diverso. Toglimi un'altra curiosità. Di fronte a noi c'è un manichino legato ad un ponteggio. A cosa serve? Qui serve a simulare la caduta di un operario da un ponteggio e far vedere come si apre il dissipatore. Credo che sia sempre meglio non cadere, giusto? E a proposito, facciamo vedere un po' come funziona un'imbragatura. Prego, abbiamo Alessandro. Facci vedere un attimo nel dettaglio, grazie. Oh, questo è il gancio che deve essere all'altezza delle scapole. C'è anche la scritta ancoraggio in questo caso. Davanti bisogna vedere che le fasce siano belle aderenti al corpo e che le cuciture non siano né strappate né rotte. Io vi ringrazio tantissimo per queste informazioni molto preziosi sulla sicurezza. Andiamo a vedere se ci sono altri ragazzi che possono insegnarci ancora qualcosa. Adesso invece voglio raggiungere Simone. Ciao Simone, ti vedo impegnato. Cosa stai facendo? Sto controllando lo stato di avanzamento del cantiere con il portale check. E quindi lo puoi fare direttamente da un tablet e quindi anche sul cantiere? Sì, con il tablet, quindi con il portale check, posso fare, quindi posso controllare le fotografie che i preposti mi mandano. Quali altre informazioni puoi avere attraverso questo software che mi sembra molto completo? Posso avere per esempio le abilitazioni, quindi i patentini che i lavoratori hanno, oppure se tutti i lavoratori presenti nel cantiere hanno un contratto regolare. Beh, mi sembra veramente un ottimo strumento. Chi lo ha sviluppato? Lo ha sviluppato la cassa edile, in collaborazione con la scuola edile e tutto il sistema edilizio. Beh, grazie mille per queste informazioni e adesso andiamo a vedere altre postazioni con altri ragazzi che stanno lavorando. È la volta di raggiungere quest'area esterna e io vedo che è già posizionato il nostro Pietro. Ciao Pietro! Ciao! Che cos'è questa cosa che sembra il joystick di un videogioco? Questo è il radiocomando a gru, serve per comandare la gru. Quindi tutti i movimenti che fa la gru tu li fai da questa cosa? Sì, posso farlo sia da qua, sia dal tetto, sia di là, ma sempre lavorando in sicurezza. Quando tu dici di là intendi dire magari a distanza dagli altri compagni di lavoro, quindi quando siete distanti come fate per capirvi? Dopo aver legato l'imbrago facciamo dei segni per farci capire, tipo abbassare, alzare, tipo questo. Ok, hai utilizzato la parola imbrago, a cosa ti riferisci? Imbraghi sono diversi tipi, qua abbiamo esempio le fasce o le catene. E quindi voi con le fasce e le catene scegliete come legare il carico? Sì, ad esempio guarda la lunghezza o il peso, qua vanno le catene per lavorare in più sicuro, però sempre col casco e le scarpe. Una cosa, quando poi avete scelto come imbragare il carico, anche il sollevamento ha tutta la sua procedura? Certo, ad esempio quel bancario di mattoni non va bene trasportarlo così, è sempre meglio metterlo nella cassa. Ho capito, grazie mille per le tue informazioni. Noi ci spostiamo sull'ultimo set di lavoro di oggi. A questo punto non mi resta che raggiungere Leonardo, che vedo già posizionato. Ciao Leonardo. Allora, in questo momento voi cosa state facendo? Stiamo impastando per finire una serie di pilastri. Poi o meno curiosità, di che anno siete voi? Prima. E in prima siete già così abili nelle opere? Proprio. Complimenti. Hai detto impasto. L'impasto serve, lo dico in modo banale, per attaccare i mattoni uno con l'altro. È un lavoro faticoso? Eh, se non si sa usare il badile, sì. Allora, dato che ci ha raggiunto un tuo compagno, facciamo vedere quali sono i movimenti giusti da fare con il badile. Allora, Leonardo, mi pare di capire che lui non utilizza la schiena ma spinge... Sulle gambe. Sulle gambe, perfetto. L'impasto è fatto di sabbia e... È un legante che può essere calce o cemento. E la calce o cemento, tu mi insegni, sono nei sacchi. Nei sacchi. C'è una procedura anche di maneggiare i sacchi? Sì. Mi fai vedere? Anche in questo caso non hai usato la schiena ma hai caricato sulle gambe. Esatto, perché uso i muscoli e non le ossa. Quindi vi pare di capire che sicurezza vuol dire anche corretto utilizzo del corpo per evitare infortuni. Esatto. Allora, grazie anche a te e colgo l'occasione naturalmente per ampliare i ringraziamenti a tutti i ragazzi che oggi hanno rappresentato le varie postazioni di lavoro e ai docenti di ESEB che mettono la sicurezza in primo piano naturalmente durante la didattica. Ciao o, come si dice con queste parti, pota, ci vediamo in cantiere. Grazie. Grazie. Grazie.